Fabrizio Fagiano, docente Skill Lab, oggi siamo qui in aula per il corso a formazione e formatori per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi stiamo argomentando e discutendo tutto quello che in azienda, da esperto interno o esterno, va fatto a livello di analisi dei bisogni, progettazione, erogazione, docenza in aula e valutazione dei risultati per migliorare gli standard di sicurezza in azienda, ripeto, attraverso la formazione, formazione per lavoratori, per proposti, per dirigenti. Il corso sta andando molto bene, c'è un'ottima interazione che è quello che serve sempre, sempre, per migliorare poi l'adattamento dei contenuti qui proposti alle specifiche realtà aziendali. Grazie a tutti.